13 Agosto i Santi Ippolito e Cassiano, Martiri Sant'Ippolito Ippolito ebbe una vita agitata che in un primo tempo gli meritò diversi rimproveri. Sacerdote sapientissimo, ma rigorista, si scagliò contro Papa Callisto al quale rimproverava la sua indulgenza verso i peccatori. Nel 217 proclamò lo scisma e seguito da numerosi fedeli diventò il primo antipapa. Nel 235, lo colpì la persecuzione di Massimino assieme a Ponziano, successore di Callisto, tutti e due venero condannati ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Il Papa si dimise, Ippolito fece altrettanto, si riconciliò con la Chiesa e scongiurò i suoi seguaci ad unirsi al successore di San Ponziano. Pochi anni dopo, Ippolito morì per la fede, e il suo corpo, riportato a Roma, fu seppellito con onore nel cimitero della Via Tiburtina. I suoi atti ce lo mostrano maestro di scuola, torturato dai suoi scolari, che lo pungevano crudelmente con i loro stili per castigarlo della sua fede cristiana e delle sue virtù. Roma e Milano gli dedicarono delle Chiese, e fu presso le sue reliquie che San Pietro Crisologo volle rendere la sua anima a Dio. A Dio, attraverso la sua intercessione e quella di essi Ippolito, chiederemo oggi quell'aumento di pietà e quella conferma nella luce della verità che assicureranno la nostra salvezza, colletta e postcomunio della Messa.